Musica Un bel saluto a tutti i geni Vedasone il benvenuto a una nuova puntata di Da Fassan Kurt La neve di questa settimana La legge provinciale numero 6 del 2008 Dace il diritto alla mandranza del Trentino De conoscere il legato di sua comunanza E se ne prevalere Deci rapporti e l'occasione Di vita sociale, economica e amministrativa Senza conoscere sopportare discriminazioni Aldo di questo scritto Duce i documenti e la deliberazione dell'amministrazione Che viene fatto per tagliare e fassare E adesso entra la piatta internet del Comune General La sua versione traduzione dei linguaggi E' un progetto neve per il Consorzio di Comune Trentin Che ha coniù creare la piatta bilingue Con tutta la sua funzione De fatto, se per il semevere Della vita del sito E chiedere parole se argomenti E' un progetto Che è l'orario L'estate portadante da Gianluigi de Sirena Già con l'amministrazione da Dante O là che era membro della commissione ICT Già una ragione con il E' un conto del percorso fatto Per mettere in neve questo progetto Questo progetto Che è il progetto portadante da me Che fa già parte della commissione ICT Già della legislatura da Dante Se sta sbondendo mettere a giro E cos'è da coccolo di giusta A un la piatta internet E' un po' per non slengare la DIN Se si va sul sito ufficiale E' un'auta diretta Se druca la DIN Ven for la piatta internet Duta per la DIN E' un po' per non slengare la DIN E' un po' per non slengare la DIN E dunca le da il dute autonomo E' completamente autonomo Sicuramente il merito De sicuro il merito è per essere tanto Della vella amministrazione Che da che la neva Ma la per più importante L'è stata fatta dal consorzio di comuns Trentins E dal dottor Merler Che ne ha dato strumenti per il ferro E poi l'apporto maggiore Non è stato certo dato dagli assessori E l'aurier più grande Non è stato fatto dagli assessori O dalla giunta Ma dal personale dell'ufficio linguistico E soprattutto da Doris Valentini Che ha traslattato a do a do Ducci documenti Perché ha tradotto continuamente Tutti i documenti Sicuramente sarà impetato Segur vennerà a giunta it E della piatta Tant per Taglian che per la DIN E in collaborazione col consorzio di comuns Trentins Strumenti di comunicazione Per arveggenare sempre di più I sentadini al ente pubblico Tras domani Che potrà fare con questi strumenti Tras l'informazione E anche tras la newsletter Che le schialurà per traslattare tutta la piatta E che l'aurerà a ma troppo A già che le sempre neve da zonterite Gli è il personale dell'ufficio di servizio linguistico Zonare Zonair con Doris Valentini Lei da presapè che è mai semes Che già lavorato a questo progetto Della traduzione della piatta internet Del Comune Generale Lei è un l'urier che viene fatto Dì per dì e pass per pass Dicona Sa che lei è una piatta internet Che ogni dì porta ad ante aggiornamenti Da man di vigni servizi Il Comune Generale di Fassa Envia a due genitori di scuole Della Scuola Popolare di Pozza E della Scuola Mesene di Moina Pozza e Ciampedell A torperta una scontreda O la che vennerà a despiegar Il neve indretti del servizio di mensa Se resonerà Della neve modalità Dessere indretti E dei criteri di ammissione Ai servizi di mensa Della scuola Che vennerà a metter In Nesser Con quest'anno di scuola 2015-2016 La scontreda a Moina La sarà il lunes ai 31 di agosto Da mesale Snev da Sera Tessa la grana del Center Scolastic Che è la Pozza E mercolai ai 2 di settembre Da mesale Snev da Sera Tessa la grana Della sora stanza Della scuola Ladina di Fassa E a Cianacei Sempre dalla mediema ora La vennerà Andrezeda In Zebia Ai 3 di settembre Tessa la sala del Consello di Comune Se volete conoscere Gli orari I programmi E la neve della programmazione Ladina del TML Sul canale 642 Della televisione Podete v'insinuere Alla neve la newsletter Sulla prima piatta Del sit del Comune General Troede il botton Insinuate alla newsletter Tecchèl Che coniede la ser Vossa direzione mail Ogni settembre Verruerà trasmail La newsletter Col palinsest Video E altre informazioni Vi ricordi Che per avere informazioni Podete v'ousere Al Comune General Per telefono O sire sulla piatta internet Deve il paio Diner scuta su Alla settembre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alla settembre